Il logo della discordia potrebbe diventare quello della pace, infatti il club rosso-blu nella giornata di sabato della scorsa settimana avrebbe inoltrato una PEC nella quale avrebbe richiesto all'ABS Taras 706 AC anche la proprietà del marchio concessione a titolo gratuito. Il logo che fino a questa stagione è stato utilizzato era stato scelto nel 2018 attraverso un sondaggio popolare di tifosi. Il supporter's trust della Taras, titolare del logo, aveva ceduto a titolo gratuito la concessione al Taranto per lo sfruttamento relativo a ragioni d'immagine e marketing. La querel però è nata qualche settimana fa con il lancio del nuovo sito ufficiale del Taranto e la presentazione di un nuovo marchio stilizzato poco gradito a buona parte della tifoseria. Sabato scorso però ci sarebbe stata la svolta con la società rosso-blu che avrebbe richiesto alla Taras la cessione della proprietà a titolo gratuito del marchio del 2018 a seguito di votazione d'assemblea. La Taras avrebbe accettato la richiesta del club rosso-blu e ad ore potrebbe emanare un comunicato stampa per ufficializzare la cessione della proprietà del logo. Con buona pace di tutti sarebbe un bel segnale per abbassare i toni e creare intorno al Taranto un clima più normale e sereno.